amici wild buongiorno oggi siamo venuti a fare lamponi e guardate che meraviglia abbiamo trovato le mucche che carine via proseguiamo per lamponi però era troppo bellino dovevamo farvele vedere ciao belle questi carini prendiamo se ci riesco è che ho paura che mi cadano in terra questi guarda sono carini guarda uomo del monte ci sono sì ma niente per wild stefi anche qualche fragolina di bosco in mezzo ai nostri lamponi e quindi io quello che trovo prendo e facciamo un bel mix di frutti di bosco vedete non vi dico la quantità di bestie se non mi raccatto un altro pinzico oggi è un miracolo c'è di tutto in questi rovi iper mega ragni cimici cavallette vespe la natura è questa vai a palla oh c'è lo wild stefi sempre tirato lassù dice là trovai grossi grossi o meccomeri oh c'è lo wild stefi sempre tirato il mondo mi stile i lampissili pronta la nostra marmellatina di lamponi ricordiamo che questa pianta ha proprietà antinfiammatorie decongestionanti lassative si possono utilizzare sia le foglie per fare delle tisane utili per l'igiene orale quindi si possono usare come colluttorio per le infezioni gengivali e per il mal di gola per fare dei gargarismi i frutti contengono vitamina c sali minerali possono essere consumati anche dai diabetici sono bellissimi profumatissimi e buonissimi quindi tutti accogliere lamponi mi raccomando ciao amici wild